Buonasera, forse prima di tutto devo dare qualche spiegazione sul titolo di questa chiacchierata che inizialmente era essere al 98% scimpanzè poi ci ho aggiunto sopra il cosa vuol dire perché secondo me è più chiaro. Studiando il DNA, il DNA nostro e quello dello scimpanzè si è arrivati già forse una trentina d'anni fa a dire che più o meno sono identici al 98% e quindi le differenze fra noi e il nostro parente evolutivo più prossimo, lo scimpanzè appunto risiederebbero nel 2% circa del DNA. E che cosa voglio dire però non è tanto chiaro e vedrete che andando avanti con questa chiacchierata ci renderemo conto che è molto difficile rispondere alla domanda da cui sono partito. È difficile rispondere però vale la pena di provarci perché come vedrete ci sono vari passaggi interessanti, vari problemi scientifici che ci inducono a ragionare, a porci delle domande che vanno anche un pochino al di là dell'ambito strettamente scientifico. Ecco, se vogliamo capire qualcosa dei nostri rapporti con lo scimpanzè, queste immagini che conoscete bene, che avete visto tante volte, sono il punto sbagliato da cui partire. Sono il punto sbagliato perché suggeriscono che a partire da questa creatura di tipo scimmiesco passando attraverso per gli stadi intermedi di questo Neandertal si sia arrivati a delle creature dall'aspetto sempre meno scimmiesco, vedete col viso sempre più piatto mentre qui va in avanti, con la fronte sempre più alta e così via. Non è vero, questa è una delle poche cose, delle poche sicurezze che mi sento di trasmettervi, la storia non è andata avanti così, è stata molto più complicata. L'idea che ci sia stato un progresso lineare è un'idea che è stata a lungo diffusa. Questo è un bravissimo naturalista tedesco dell'Ottocento, Enes Haeckel, che però non capiva niente di evoluzione e in un suo famoso libro Haeckel, partendo dall'ameba, dall'organismo unicellulare, individua 22 passaggi attraverso i quali alla fine si sarebbe arrivati all'uomo. Quindi l'ameba sarebbe il nostro antenato insieme al canguro, insieme ai pesci e insieme anche, guardate qua, a un dinosauro. Ora, perché è sbagliata questa impostazione? Beh, se non altro perché se dobbiamo cercare i nostri antenati dobbiamo cercarli nel passato, non nel presente e con l'eccezione del dinosauro tutte queste creature qua sono creature che sono vive insieme a noi. E quindi ci sarà un rapporto fra queste creature, cercheremo di capirne qualcosa tra poco, ma questo rapporto non è semplicemente un rapporto genealogico in cui al nonno segue il padre, poi il figlio, poi il figlio del figlio e così via. Tanto per cambiare c'era arrivato per primo Charles Darwin, uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Perdonatemi, ma mi scaldo un poco quando si tratta di parlare di Darwin. Nel 1837, mentre era impegnato nel suo viaggio intorno al mondo sul brigantino Beagle, Darwin fa in un suo quaderno questo disegno, che a mio parere è addirittura commovente. Commovente perché lui intuisce che tra le varie specie che sono indicate da questi rami ci sono delle relazioni genealogiche che possono essere rappresentate in forma di albero. L'albero dell'evoluzione è una metafora che poi avrà un successo enorme nello studio delle scienze naturali e che continua oggi a ispirare metodi con i quali i biologi interpretano la biodiversità. E questo albero, vedete, è una radice e poi tanti rami che si separano. Alcuni di questi rami terminano troncati, queste sono specie che si sono estinte, altri invece proseguono e altri addirittura ramificano più e più volte. Darwin aveva capito che il processo non è un processo lineare, che le relazioni fra i viventi sono complicate e che l'evoluzione non è una scala dal più semplice al più complesso, una scala lineare, ma assomiglia più che altro a un cespuglio in cui ci sono tantissimi rami. Se volete vederlo, questo cespuglio, se volete vedere come la pensiamo oggi, eccolo qua. Diciamo allora che qui c'è il passato e il passato è intorno a 4 miliardi e mezzo di anni fa, l'origine della Terra. E l'origine della vita sulla Terra la piazziamo approssimativamente a 3 miliardi e mezzo di anni fa. E poi, partendo dal centro, si procede verso il presente. E vedete, ci sono i tre regni dei viventi che oggi non sono più quelli che abbiamo studiato a scuola, ma sono i batteri, gli archeobatteri e gli eucarioti, cioè animali, piante e funghi, tutti quanti insieme, perché le nostre cellule si assomigliano molto. E vedete che partendo dal passato si formano tanti rami diversi, tante specie diverse, ma poi ci sono dei momenti in cui molti di questi rami terminano nel nulla e poi qualcuno di loro però prosiegue e va avanti. Questi rami che terminano nel nulla corrispondono alle cinque grandi estinzioni di massa che troviamo tra i fossili. Cinque momenti in cui una gran parte della biodiversità terrestre si è persa in seguito a grandi eventi cosmici, a grandi cambiamenti cosmici. È probabile che anche oggi sia in corso la sesta estinzione, che però è legata non a fenomeni a livello universale ma alle attività umane. Ma di questo non sono venuto a parlarvi. Come vedete, man mano che passa il tempo si sviluppano gli eucarioti e alla fine qua ci sono i mammiferi e noi siamo qui, in questo pezzettino qui in fondo. Siamo delle creature recenti e qui vedete un ingrandimento, su cui poi torneremo tra un attimo, di quelle che possono essere state le relazioni fra noi e i nostri antenati. Un'altra cosa che possiamo dire con una certa sicurezza è che sei milioni e mezzo di anni fa viveva un antenato comune dell'uomo e dello scimpanzè. Non eravamo specie diverse. Di questo antenato comune si sa molto poco. Non sappiamo come fosse fatto e non ha neanche un nome, lo chiamiamo appunto antenato comune dell'uomo e dello scimpanzè. Ma da quel momento in poi cominciano a comparire delle forme che qui vedete riassunte, su questo poi torneremo tante volte, che hanno delle caratteristiche diverse da quelle delle scimmie attuali. Hanno i denti diversi e hanno anche altre cose diverse. Ecco, questo è uno schema generale, poi incomincieremo a cercare di conoscere un po' alla volta queste creature. Qui sotto c'è qualcuno che era il nostro antenato e che assomigliava al 100% allo scimpanzè e nel corso di 7 milioni di anni siamo arrivati a noi, che abbiamo invece in comune con lo scimpanzè soltanto il 98% del nostro DNA. Ma naturalmente siamo diversi per tanti motivi. queste linee che collegano i vari crani, che rappresentano le varie forme umane, sono grosse in certi pezzi quando siamo abbastanza sicuri delle relazioni rappresentate in questo albero e diventano sottili quando si tratta invece di entrare nel dettaglio, perché le relazioni fra queste forme umane sono molto complicate da decifrare. Il primo motivo è che di molte di queste forme noi possediamo soltanto un cranio o addirittura qualche pezzo di osso. È chiaro che abbiamo bisogno di nomi per chiamare le cose e quindi a ciascuna di queste forme umane è stato applicato un nome. Questi nomi cambiano. Man mano che vengono scoperti nuovi fossili siamo portati a riconsiderare i rapporti fra i fossili esistenti e quindi a volte si mettono insieme delle forme che un tempo erano separate e a volte succede il contrario, si separano delle forme che appartenevano fino a un certo momento alla stessa denominazione, alla stessa specie. Quello che è importante in quest'albero è che c'è una prima fase, indicata qua in azzurro, in cui c'erano delle forme umane, dei primi ominidi, le cui relazioni con noi non sono chiare ma che chiaramente non erano più degli scimpanze. Avevano i denti fatti in una maniera diversa, avevano il femore fatto in maniera diversa. Da qui si stacca un primo gruppo che chiamiamo di australopiteci e che troviamo tra 5 e 2 milioni di anni fa. E dagli australopiteci si staccano ancora due gruppi, un gruppo che chiamiamo Homo, e dopo vedremo perché da un certo momento in poi si comincia a parlare del genere Homo, e un altro gruppo di creature che per quanto affini a noi per tanti motivi, in realtà è abbastanza chiaro che hanno preso una traiettoria evolutiva diversa, sono andati da un'altra parte e alla fine si sono estinti. E allora adesso vi propongo di passarle in rassegna un po' una alla volta, utilizzando delle bellissime ricostruzioni che sono state fatte da una scultrice francese che si chiama Elisabeth D'Aines. C'è un suo sito che vi invito ad andare a controllare. Attenzione, quando stiamo parlando di queste ricostruzioni, stiamo parlando di qualcosa che è stato costruito con i criteri più scientifici possibili, andando a guardare sulle ossa le impronte lasciate dai muscoli, andando a piazzare le regioni adipose nei posti giusti, ma naturalmente quando l'artista ricostruisce queste figure ci mette sempre qualcosa di suo. Integra i dati mancanti. Noi in molti casi non conosciamo il colore della pelle di queste creature, non sappiamo come si tagliassero i capelli, non sappiamo esattamente quanto grande fosse il naso, eppure vale la pena a mio parere di vederle così, perché ci danno un'immagine molto più vicina, molto più amichevole anche, di queste creature che si sono susseguite e che in qualche modo fanno parte del nostro album di famiglia. Il primo di cui vi parlo, eccolo qua, si chiama Sail Anthropus Chadensis. Il Sahel è la zona vicina al Sahara. Questo è quello che possediamo del Sail Anthropus e questa è la ricostruzione che ha fatto la Dainess. Perché diciamo che fa parte della nostra storia e non della storia degli scimpanzè? Perché questi denti sono denti che gli scimpanzè non hanno. Hanno delle caratteristiche diverse. In questo albero, come vedete, siamo qua. L'altra cosa interessante è che, come vedrete, tutti i nostri antenati più remoti sono africani. Ma non solo sono africani, ma sono anche generalmente concentrati nell'est dell'Africa, nella regione che comprende l'Etiopia, la Tanzania, il Kenya. C'è motivo di credere che quella fosse la culla dell'umanità. Bene, il Sail Anthropus in realtà viene dal Chad, viene da un'altra zona. Quindi c'è stato qualcuno che si è spinto in altre regioni dell'Africa e poi ha avuto la sua vicenda fino a che a un certo punto non si è estinto. Chi potrebbe invece essere un nostro diretto antenato è l'Australopiteco a Farense, molto noto col nome di Lucy. Forse sapete questa storia. Johansson, che è un antropologo americano, scavando in Etiopia, una ventina, 25 anni fa, ha trovato uno scheletro straordinariamente completo per la sua età, che è di 3 milioni e mezzo di anni fa. E questo scheletro l'ha chiamato Lucy, siamo qui adesso nell'albero, l'ha chiamato Lucy perché in quel momento stava ascoltando una canzone dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. E Lucy però ha nel suo bacino e in quello che possiamo vedere del suo cranio, che qui è ricostruito, delle caratteristiche che noi ritroviamo nelle forme più avanzate, più recenti, che poi a un certo punto hanno portato alla comparsa di creature molto simili a noi e poi a noi. Questo è grossomodo l'aspetto che poteva avere Lucy e vedete anche quelli di voi che non sono tanto esperti di dentature. Questa è una dentatura che ricorda abbastanza da vicino le dentature umane, le dentature moderne. Invece pare che non facesse parte della stessa famiglia questo Paranthropus Boisei, qui siamo nel gruppo di quelli che hanno preso una strada evolutiva differente. Vedete, mentre in Lucy c'era una fronte e il cervello era in qualche modo in una posizione superiore a quella degli occhi, ecco nei Paranthropus invece le cose sono differenti e vedete che tutta la scatola cranica sta dietro all'occhio. Il cervello era in una posizione diversa. Queste creature erano presenti in Tanzania, sempre nell'Africa orientale, diciamo un 2 milioni e mezzo di anni fa. E poi compare il primo, in questa breve carrellata che stiamo facendo, la prima creatura che noi chiamiamo Homo. Homo habilis in realtà non siamo ben sicuri che fosse un'unica specie umana, forse era un gruppo piuttosto eterogeneo di creature che noi raggruppiamo sotto lo stesso nome. Ma Homo habilis qui lo vedete rappresentato mentre sta scheggiando un sasso con un sasso. Con Homo habilis non solo comincia il genere Homo e quindi forse in qualche senso la storia dell'umanità, ma comincia anche l'età della pietra. Anzi possiamo dire che la storia dell'umanità comincia con l'età della pietra. Questi erano degli utensili che Homo habilis utilizzava. Attenzione, anche gli scimpanze possono usare delle pietre per procurarsi, per colpire degli oggetti, usano dei bastoncini per andare a cercare le formiche nei formicai. Ma questi utensili di Homo habilis avevano una peculiarità e ci torneremo più avanti. Erano degli utensili costruiti servendosi di altri utensili. Per formare delle pietre taglienti come queste bisognava sbattere le pietre una contro l'altra e questo è un grande passo avanti culturale. Da quel momento in poi l'uomo utilizza utensili per costruire degli utensili. Significa che è cambiato qualcosa di profondo? Significa che questo nome Homo adesso è giustificato e prima no? Naturalmente è difficile dirlo. C'è sempre qualche cosa di arbitrario in queste denominazioni, però ricordiamoci che con l'età della pietra comincia il genere Homo, comincia il genere a cui apparteniamo noi. Homo habilis era alto un metro e trenta. Difficile dire se incontrandolo per strada ci rivolgeremmo all'ente protezione animali o alle autorità incaricate di occuparsi di immigrazione per proteggerlo. Probabilmente all'ente protezione animali. E aveva le gambe corte naturalmente essendo basso. Per molto tempo si è ritenuto che queste creature fossero dotate di limitata mobilità e che quindi stessero più o meno nella zona dove le abbiamo incontrate in Africa. Ma ci sbagliavamo e recentemente è stata scoperta e datata a 1 milione e 800 mila anni fa una popolazione di creature simili a Homo habilis in Georgia, quindi sotto il Caucaso, nell'ex Unione Sovietica. E queste creature sono datate a 1 milione e 800 mila anni fa. Questa è stata la prima uscita dall'Africa. Sono i primi umani che troviamo documentati fuori dall'Africa e vedrete che tra un poco parleremo di una seconda uscita dall'Africa che però è molto più recente e riguarda persone come noi, i nostri diretti antenati africani. 1 milione e 800 mila anni fa in Georgia c'erano già delle creature umane, venivano sicuramente dall'Africa, avevano nella ricostruzione dell'artista un aspetto che già si avvicina al nostro e nell'albero genealogico si piazzano più o meno qui. Non sono rappresentate perché sono una scoperta nuova. Ma l'uomo di Tmanisi, l'uomo della Georgia, ha un'altra caratteristica importante che ci induce a riflettere. Sono stati trovati cinque crani, li vedete qua, tutti più o meno contemporanei, tutti datati allo stesso momento. E vedete che qui ci sono dei crani molto scimmieschi con la parte anteriore della faccia che si protende molto in avanti e dei crani invece che sembrano abbastanza moderni con una fronte abbastanza verticale e il viso schiacciato. Quindi nella stessa popolazione c'erano delle figure, delle creature molto diverse tra di loro e c'è qualcuno, specie gli archeologi georgiani che hanno scoperto questi giocimenti di Tmanisi che sostengono che in realtà molte delle differenze che abbiamo osservato fra queste diverse specie umane che vi sto elencando, in realtà rappresentavano la variazione normale all'interno della stessa specie. Un po' come tutti quanti qui dentro siamo fatti in un modo un po' diverso l'uno dall'altro. Su questo io non prenderò posizione, non è il mio campo e secondo me non è neanche tanto interessante discutere di che cosa sia una specie e di che cosa è un'altra. Sto facendo questa rassegna per farvi vedere come passo passo si accumulano delle differenze che ci allontanano sempre di più dagli antenati comuni a noi e agli scimpanzè di cui abbiamo parlato prima. In un momento più recente in Africa compaiono poi finalmente degli esseri con le gambe lunghe, degli esseri più alti, li vedete qua, con un cranio più grande e dentro il cranio ci stava un cervello più grande che oggi sono chiamati Homo ergaster, un milione e mezzo di anni fa, questa è una possibile ricostruzione, li trovate qui, e che fino a qualche anno fa erano raggruppati insieme ad altri fossili asiatici sotto il nome di Homo erectus che forse qualcuno di voi ha sentito. Oggi si preferisce chiamarli in maniera diversa. Homo ergaster aveva effettivamente le gambe lunghe, aveva una capacità di muoversi che precedentemente non era nota e da questo momento in poi si capisce che anche la migrazione e lo spostamento nello spazio diventa più facile. Diventa così facile che effettivamente più o meno nello stesso periodo, qualche millennio più tardi, compaiono qualche centinaia di migliaia di anni più tardi in Asia, in una vasta parte dell'Asia, compaiono queste creature. Si chiamano Homo erectus, hanno un cranio molto riconoscibile perché è un cranio molto allungato verso la regione posteriore con questa area qui davanti, vedete, davanti agli occhi, in cui avrebbero potuto facilmente tenere in equilibrio una matita, ma non avevano matite, per cui non si sa cosa si siano fatti di questa loro prerogativa, e utilizzavano degli strumenti che, lo vedete anche voi, sono più sofisticati, sono degli utensili tagliati in maniera molto più fine di quelli che abbiamo visti utilizzare da Homo habilis. Adesso facciamo un salto molto rapido in avanti nel tempo, perché parliamo di una nostra ottima conoscenza, nel senso che tra tutte le forme umane che avete visto finora, questa è quella che conosciamo da più tempo, da metà dell'Ottocento, e che abbiamo studiato più a fondo, ed è l'Uomo di Neandertal. L'Uomo di Neandertal è documentato in quasi tutta l'Europa e adesso in una buona parte dell'Asia, diciamo da 300.000 a 29.000 anni fa. 29.000 anni è una data precisa che conosciamo molto bene. L'Uomo di Neandertal utilizzava degli utensili ancora più sofisticati, una tecnologia particolare che si chiama musteriana, ma non c'è bisogno di ricordarsi questo nome per questa chiacchierata. Per esempio c'erano delle lame, ed è per questo motivo che l'artista, presentandoci questa figura di Uomo di Neandertal, l'ha fatto senza baffi. Noi non sapevamo in realtà se usassero queste lame per radersi o per altre finalità, però avevano le lame e quindi l'artista si è sentita autorizzata a presentarci questa figura fatta in questo modo. Vedete c'è un sorrisino, insomma c'è qualcosa che ce lo rende familiare. È difficile capire quanto sorridessero i Neandertaliani, non avevano molti motivi di stare allegri con la vita che facevano, però avranno sorriso anche loro e indubbiamente qui siamo alle prese con delle creature che incominciano ad assomigliarci. Rispetto a noi in realtà gli scheletri Neandertaliani sono ben distinguibili. Erano più robusti, più compatti dei nostri, avevano le gambe più corte, le braccia più lunghe, avevano un cranio molto grande. I cervelli Neandertaliani, che noi non sappiamo come funzionassero, erano grandi quanto i nostri e forse anche di più. Avevano un grande naso, non avevano il mento, e avevano anche loro un pochettino sopra gli occhi questo ispessimento che avete visto prima in Homo erectus. Ecco, quando si pensa a creature di questo genere che nel tempo non sono tanto lontane e che si sono sovrapposte ai nostri antenati africani in questo periodo qua, certo è difficile dire, è difficile farsene un'immagine convincente. Qui è sicuramente un'immagine amichevole quella che ha cercato di dare l'artista, ma ci sono delle altre possibilità. Per esempio, questo è il manifesto di un film americano degli anni 50, in cui vedete un uomo di Neandertal che sta portandosi via una ragazza, mentre le altre ragazze sono terrorizzate e urlano. Mezzo uomo e mezza bestia, si scrive qua. Se vi interessa, questo è un film su uno scienziato americano, che sulla base del fatto che Neandertal ha un cranio più grande del nostro, sostiene che i Neandertaliani sono più intelligenti di noi. I colleghi lo prendono in giro e allora lui si inietta un siero e si trasforma in un uomo di Neandertal che salta addosso alle donne e se le porta via. E verrà ucciso dal suo gatto che ha leccato le gocce del siero cadute per terra e si è trasformato in una tigre dai denti a sciabola. Si sono lasciati un pochettino prendere la mano, era l'epoca dei film B, dei film dell'orrore, ma c'è da dire che questo aspetto dell'uomo di Neandertal in realtà deriva da questa illustrazione scientifica comparsa in Inghilterra negli anni venti e in cui la stessa creatura che prima avete visto sorridente appoggiata a un muro leggermente ironica è rappresentata come un bestione peloso con una clava che sicuramente si prepara a dare in testa a chiunque arrivi di qua. Come erano i Neandertal? Erano buoni? Erano cattivi? Noi non lo sappiamo. Probabilmente come tutti noi erano in certi casi buoni, in altri cattivi e di solito vivevano in una maniera mediocre, erano né buoni né cattivi, come noi, come noi. Però è molto difficile stabilirlo con certezza. Certo è che a partire da 190.000 anni fa i Neandertal non sono più la forma umana più avanzata perché in Africa compare qualcosa di nuovo. Questo è un reperto fossile che è stato individuato in Etiopia a Omokibish e che inizialmente era stato adattato a 100.000 anni fa ma oggi possiamo dire con sicurezza che è invece di 190.000 anni fa. Siamo arrivati qua in cima, nell'albero genealogico. Vedete che rimane ancora questo spessimento frontale ma la fronte adesso è diventata verticale. Sono molto più sofisticati gli strumenti di cui questa forma si serve e il suo aspetto, come vedete, è un aspetto che potrebbe essere anche contemporaneo. 190.000 anni fa compare in Africa qualcuno che ha la fronte verticale come noi, che ha il mento, Neandertal non l'aveva, Homer Ectus non ce l'aveva, e che costruisce degli oggetti tecnologicamente molto più avanzati di quelli che erano stati a disposizione fino a quel momento. Per circa un centinaio di migliaia di anni questa forma, che chiamiamo Homo sapiens come tutti noi, rimane localizzata in Africa. Ma a partire da una data che non riusciamo a definire con grande precisione ma che sarà intorno a 100.000 anni fa, ecco qui vedete Omokibish 190.000 anni fa, probabilmente passando prima attraverso l'Arabia, la penisola arabica, che all'epoca era collegata per via di terra all'Africa perché il livello del mare era più basso, ed espandendosi quindi nell'Asia meridionale e poi in Oceania e in Australia, e poi passando attraverso la Palestina e diffondendosi in Europa e in Asia, questa nuova forma umana, questa forma umana fatta come tutti quanti noi, nel giro di poco tempo, nel giro di una quarantina di migliaia di anni, colonizza tutto il pianeta e contemporaneamente le altre forme umane che erano presenti sulla Terra si estinguono. Cosa si è successo in questo complicato fenomeno? È difficile dirlo. Certo ci saranno stati episodi di violenza interpersonale, sono documentati, ci sono crani che sono stati spaccati da sassate o da ammazzate. Ci saranno state delle interazioni pacifiche anche con tutta probabilità, ci sono state delle malattie che i nostri antenati africani hanno portato dall'Africa, a cui loro erano tolleranti e magari le altre forme umane presenti sulla Terra non lo erano. Di fatto siamo rimasti soltanto noi, siamo rimasti noi africani e oggi tutti quanti sulla Terra hanno le caratteristiche tipiche dell'uomo di Homo Kibish che viene dall'Africa 190.000 anni fa. Quindi questa è stata la seconda uscita dall'Africa, quella che ha portato non più il genere Homo in giro per il vecchio continente, ma Homo sapiens, noi a colonizzare tutti quanti i continenti. La storia non finisce lì però. Di recente sono state trovate altre due specie umane o forme umane. Questa è la più strana di tutte. A Flores in Indonesia 18.000 anni fa sono datati questi crani, queste forme che corrispondono a delle figure che vedete qua messe a confronto con una donna neandertaliana e quella di prima e con una donna anatomicamente moderna, un'africana come noi, Homo sapiens. Erano piccolissimi, qui vedete Moorhead, l'archeologo australiano che ha rinvenuto questo uomo di Flores con in mano un suo cranio. Il volume di questo cranio era 400 centimetri cubici, il volume interno. E quindi questo uomo di Flores aveva la capacità cerebrale di un piccolo scimpenzè odierno. Ma non viveva milioni di anni fa, viveva 18.000 anni fa quando in Europa ormai si facevano i grandi cicli di arte muraria di Altamura, di Lascaux in Francia. C'erano anche loro. E c'erano anche questi qua che sono gli ultimi arrivati, l'uomo di Denisova e di cui conserviamo soltanto questo pezzettino di una falangetta di un dito mignolo e questi due denti. In una grotta in Siberia, pochi anni fa, il gruppo di Svantepebo, che è un ricercatore svedese che lavora all'Ipsia in Germania e che ritroveremo anche più avanti in questa chiacchierata, rinviene questi piccolissimi fossili che però al freddo si sono conservati in maniera perfetta. E distruggendo questo piccolo pezzetto che quindi oggi esiste solo come forma di calco, il gruppo di Svantepebo ottiene del DNA di altissima qualità che viene letto e si può dimostrare che questo DNA non può appartenere né a noi, a Homo sapiens, né a Neandertal. E quindi c'è una nuova specie umana che si chiama l'uomo di Denisova, datato a 41.000 anni fa in Siberia, sul cui aspetto non possiamo dire niente perché nessuno li ha mai visti, perché sulla base di questo pezzetto qui non possiamo sapere se fossero alti o bassi, grossi, magri, come fossero fatti. Ed è la prima specie che è definita esclusivamente su basi genetiche. Quindi questo significa che contrariamente all'immagine da cui siamo partiti, questo progresso lineare da delle forme arcaiche, delle forme più moderne, la situazione è stata complicata e ci sono stati momenti, diciamo 200.000 anni fa, in cui erano presenti diverse forme umane, probabilmente diverse specie umane. In Africa Homer Gaster, da cui poi discendiamo a noi, in Europa e in una parte dell'Asia Neandertal, qui i Denisovani, molto misteriosi, se volete sapere quello che penso io, penso che i Denisovani in realtà fossero una propaggine di Homo erectus, solo che di Homo erectus non abbiamo il DNA e quindi non possiamo provarlo, e qui nell'isola di Flores una quinta, una quinta forma umana. Una situazione che avrebbe creato anche qualche problema, se ci pensate bene, perché già adesso si discute sui diritti da dare a immigrati che vengono da qualche migliaio di chilometri di distanza e che comunque dal punto di vista biologico sono molto molto simili a noi. Immaginatevi la situazione con cinque specie umane diverse, discutere dei diritti di queste cinque forme sarebbe stato davvero complicato. Questo sforzo ci è stato risparmiato, non so se sia un bene o un male, ma comunque ci è stato risparmiato. Ecco, in tutta questa serie di passaggi da delle forme più arcaiche, delle forme via via sempre più evolute, ci sono due tendenze fondamentali su cui vorrei farvi riflettere un attimo. La prima è una tendenza che si chiama bipedalismo. Per i primati, per gli orangutang, i gorilla e gli scimpanze, camminare su due gambe è molto insolito. Lo fanno per qualche metro, ma poi si rimettono ad aiutarsi con gli arti anteriori. E invece la linea evolutiva che porta a noi è caratterizzata dal fatto della stazione retta, il bipedalismo. Ma il bipedalismo porta una serie di conseguenze a livello dell'organismo intero, dello scheletro, perché il cranio non si attacca più in posizione anteriore rispetto alla colonna vertebrale, ma ci sta sopra. La spina dorsale cambia nelle scimmie è semplicemente arcuata, da noi assume una forma ad esse largamente insoddisfacente, come sanno tutti quelli di noi che soffrono di mal di schiena. Lì l'evoluzione non ha fatto in tempo a fare un buon lavoro, non siamo un prodotto molto sofisticato dell'evoluzione dal punto di vista della spina dorsale. Ma questo è niente perché c'è di peggio. Il bacino, che nelle scimmie è allungato, qui invece assume un aspetto più circolare. Ma in questa modificazione il parto diventa più difficile. La nostra specie, tra tutte le specie dei primati, tra tutte le scimmie, è quella che ha il più alto tasso di mortalità per i natale. Partorire per l'uomo è più difficile che per lo simpazè e per il gorilla. Anche lì l'evoluzione non ha fatto un buon lavoro, non siamo stati disegnati perfettamente, ci siamo adattati, è successo quello che poteva succedere, l'evoluzione va avanti in questo modo. E poi cambia l'angolatura del femore. Quindi il bipedalismo è una delle due principali tendenze che segnano il passaggio da forme arcaiche a forme umane sempre più evolute. E il secondo è forse ancora più importante. Si chiama encefalizzazione. Se vedete le dimensioni del Cylantropus chadensis, meno di 500 centimetri cubi, e passiamo poi da 6 milioni di anni fa fino ai giorni nostri, vedete che c'è un costante, stabile aumento delle dimensioni cerebrali. Attenzione che qua c'è Neandertal e ci siamo noi, perché Neandertal non aveva un cervello più piccolo del nostro. Ma non si tratta semplicemente di un aumento della massa cerebrale. Naturalmente dipende anche, la qualità della massa cerebrale dipende anche da quanti neuroni ha, da quanto funziona, questo non lo possiamo sapere. Ma c'è anche un aumento del peso della massa cerebrale rispetto al peso corporeo. Se facciamo un grafico in cui mettiamo insieme le dimensioni dei cervelli nel gorilla, nell'orangutang, nello scimpanzè e poi in varie forme umane, vedete che c'è un aumento abbastanza costante e poi d'improvviso Homo sapiens sta qui in alto. Quindi non solo abbiamo i cervelli più grandi tra tutti i primati, ma questi cervelli sono anche molto grandi rispetto alle dimensioni del corpo. Quindi lì è successo qualche cosa. Che cosa è successo è difficile dirlo, non uscirete con una risposta soddisfacente da questa chiacchierata, ma io tornerei un attimo al motivo per cui abbiamo chiamato Homo habilis, quella forma umana che abbiamo trovato in Africa e che utilizzava utensili di pietra per scheggiare altri utensili. Ve ne parlo riferendomi al lavoro di un bravissimo psicologo estone di origine tedesca, si chiama Wolfgang Köhler, che è quello che ci ha dato i dati più interessanti sulle capacità degli scimpanzè, sulle capacità cognitive degli scimpanzè. Intorno agli anni dieci Köhler va nell'isola di Tenerife e lì ha un allevamento di scimpanzè e cerca di capire quali capacità intellettive abbiano questi animali. E il più bravo di tutti è Sultan, vuol dire sultano, lo vedete qua che sta innestando un bastone dentro un altro per farsi un palo lungo con cui raggiungere una banana appesa troppo in alto. E qui è lo stesso Sultan che ha messo in pila, come vedete, tre scatoloni ed è arrivato a prendersi la sua banana. Quando Köhler dà a Sultan un palo, un ramo in realtà, con tanti altri rametti che gli danno fastidio, Sultan spezza i rametti, si costruisce il bastone con il quale va a colpire la banana e se la procura. Ma se Köhler gli dà un ramo, i cui rametti sono troppo grossi per essere spezzati con la sola forza delle mani e gli mette un sasso vicino con il quale Sultan potrebbe spaccare i rametti, Sultan non ci arriva. Non riesce, anche lui che è lo scimpanzè più intelligente di tutti, non riesce a programmare le proprie attività in modo da utilizzare un oggetto per costruirsi un altro oggetto. E questo risultato è rimasto famoso ed è stato chiamato il limite di Sultan, il punto a cui gli scimpanzè non arrivano. Non ci arrivano gli scimpanzè ma c'è arrivato invece Homo habilis che quindi 2 milioni virgola 3 di anni fa sapeva fare delle cose, queste cose, che gli scimpanzè non hanno mai imparato a fare. Questa è una differenza indubbiamente qualitativa tra noi e loro, segna in qualche modo un punto di non ritorno. Se questo giustifichi il fatto che Homo habilis era un uomo mentre gli autolopiteci no, oppure no, questo io non ve lo so dire, dipende forse molto dei gusti. Non c'è dubbio che questa però non è la sola differenza che c'è tra noi e gli scimpanzè. Anzi c'è chi si è divertito a elencarle e l'elenco è lunghissimo, c'è una serie di attività umane che coprono tutte le lettere dell'alfabeto dall'agricoltura al bungee jumping, alla ceramica, via via fino ai raggi X, allo yoga e alla zootecnia. Potete andare avanti finché volete. Quindi non c'è dubbio che sappiamo fare tante cose che gli scimpanzè non sanno fare. Questo naturalmente fa sorgere un sacco di domande. Fa sorgere un sacco di domande per esempio perché siamo bipedi? Come mai siamo diventati bipedi a un certo punto? Come mai abbiamo un cervello così grande? Perché e quando è comparsa la facoltà del linguaggio? E soprattutto la domanda più difficile di tutti a cui nessuno, credo, è in grado di rispondere. Perché è successo solo a noi? Perché di tante forme umane che sono comparse, ne abbiamo viste solo una parte, non vi ho fatto vedere tutto. Soltanto una ha avuto questo sviluppo cognitivo così rapido, così profondo. Vi dirò qualcosa sulla facoltà del linguaggio, solo su questo, mentre sul resto sospendo prudenzialmente il giudizio anche perché ci sono tante speculazioni e pochi dati. Molti dati buoni però ci vengono oggi dallo studio non più delle ossa, ma dallo studio del DNA portato da noi e da queste creature. Il DNA, più o meno sapete tutti che cos'è, è il libretto di istruzioni delle nostre cellule. Ciascuna delle nostre cellule contiene questo libretto di istruzioni che spesso è stato paragonato ad un testo ed effettivamente è una buona metafora perché è un testo lineare di cui noi conosciamo benissimo l'alfabeto. Sono le quattro basi del DNA, quattro molecole che si ripetono nella catena del DNA e che indichiamo con le lettere A, C, T e G. Di questo testo conosciamo anche la grammatica, conosciamo i singoli geni che nell'uomo e nello scimpanzè sono circa 22.000, ognuno dei quali fa una o più funzioni nell'interno della cellula. Conosciamo invece molto poco la sintassi di questo testo, il modo in cui i vari geni interagiscono fra di loro. In ciascuna delle nostre cellule questo testo è lungo 6 miliardi e mezzo di caratteri, ci sono 6 miliardi e mezzo di basi. Vi faccio vedere questa cosa. Secondo una mia stima molto approssimativa i Promessi Sposi hanno un milione di caratteri e quindi ciascuna delle vostre cellule, che è grande diciamo 10 millesimi di millimetro o poco più, contiene al suo interno un libretto di istruzioni pari a 6.500 volumi dei Promessi Sposi. Come faccia la cellula andare a trovare in questa biblioteca sterminata la pagina giusta con le istruzioni giuste nel giro di secondi o di minuti? Non lo so e non lo sa nessuno, questo è un tema su cui si potrà lavorare tanto. Per molti anni quelli come me, i genetisti, hanno potuto studiare dei piccoli pezzi di DNA, ma oggi esistono le tecniche per studiare il complesso del DNA che chiamerò da adesso in poi genoma. Quindi genoma vuol dire tutto il DNA di una cellula umana, di una cellula di scimpanzè o perché no di una cellula di canguro o di stella alpina. Abbiamo imparato varie cose. Una o due ve le faccio vedere ma non vi tedierò troppo con questi dati. Intanto quanto sono diversi allora le lettere di questo testo nelle diverse cellule? Se confrontiamo due cellule dello stesso organismo, qui vedete un globulo bianco e un neurone, queste cellule hanno lo stesso genoma, lo stesso DNA, le differenze sono 0 su 100. Se confrontiamo le cellule di due gemelli monozigoti, ancora una volta le differenze non ci sono. Il loro DNA è perfettamente identico nelle cellule dell'una e nelle cellule dell'altro. Se invece prendiamo due di noi a caso, anche due persone provenienti da territori piuttosto lontani, vedete c'è un uomo asiatico e quella donna viene da Tonga, quindi viene dalla Melanesia, le differenze sono dell'ordine dello 0,1%. Significa che ognuno di noi ha in comune con qualunque sconosciuto il 99,9% del suo DNA. E tutte le differenze che ci rendono così riconoscibili, così individuali, in realtà risiedono nell'1 per 1000 del DNA. Ecco qui arriva allora il 98% scimpanzè. Se confrontiamo uno di noi e gli scimpanzè, le differenze sono dell'ordine del 2,4%. Dipende da come le consideriamo, non entrerò in questo dettaglio. Abbiamo naturalmente qualcosa in comune con tutti gli organismi, perché abbiamo tutti quanti la stessa origine, la stessa evoluzione. Per esempio se ci confrontiamo con una pianta, un carciofo, una banana, quello che volete voi, abbiamo circa un 25% di DNA in comune e un 75% di DNA che è diverso. Questo perché ci sono delle cose che le nostre cellule e le cellule del carciofo fanno esattamente allo stesso modo utilizzando gli stessi geni. Se ci chiediamo come sono distribuite le differenze del DNA all'interno della nostra specie, quindi se ci concentriamo su questo 1 per 1000, dopo parleremo anche di questo 2%, se ci concentriamo sulle differenze, eccole qua, all'interno della nostra specie e confrontiamo per esempio degli europei qui rappresentati da Nanni Moretti e Renato Carpinteri a bordo di un'ape che indica anche il diverso sviluppo tecnologico, vedete, tra i diversi continenti, confrontiamo con degli asiatici e con degli africani, troviamo che l'80% e passa delle varianti del DNA, delle cose in cui siamo diversi, sono cosmopolite, cioè presenti in tutti i continenti a frequenze diverse. Io e molti di voi anche sono di gruppo sanguigno zero. Il gruppo sanguigno zero è una variante del DNA cosmopolita perché è presente nelle popolazioni di tutti e cinque i continenti. Invece il gruppo sanguigno B, per chi è B o AB, no, il gruppo sanguigno B non è presente negli indigeni americani, non è presente negli indigeni australiani. Bene, le caratteristiche come il gruppo sanguigno zero presenti in tutti i continenti sono l'80% delle varianti del nostro DNA. Abbiamo tantissime cose in comune attraverso i continenti. Essere geneticamente europei, come vedete, è praticamente impossibile. Solo 0,06% delle varianti del DNA sono tipicamente europee. Molto poche sono asiatiche, però ancora una volta l'Africa non è un continente come tutti gli altri. Nell'Africa ci sta circa il 7% delle varianti del nostro DNA. E il motivo, forse l'avete intuito, è che la nostra storia in Africa è molto più lunga, c'è stato molto più tempo perché si accumulassero delle differenze rispetto al tempo che abbiamo trascorso negli altri continenti. Quindi questo per quanto riguarda quell'uno per mille di differenze al nostro interno. Per quanto riguarda le differenze fra noi e gli scimpanze, è chiaro che l'idea è che se abbiamo un 2% di differenze, in quel 2% del genoma saranno tutti i geni che ci fanno fare delle cose che gli scimpanze non sono capaci di fare. Per esempio, parlare con un linguaggio articolato. E questa ipotesi ha avuto un certo successo per un po' di tempo e per un po' di tempo c'è stata una caccia ai geni che noi abbiamo e gli scimpanze no. Perché si pensava in questi geni troveremo qualcosa di importante. Vi dico subito che adesso che è stata completata la lettura del genoma degli scimpanze, viene fuori che noi abbiamo soltanto 16 geni su 22.000 che gli scimpanze non hanno. Quindi era una caccia che era destinata a fallire. Però per un po' di tempo ci si è lavorato e spesso in biologia si lavora sulle patologie. Si cerca di capire dalle persone che hanno dei problemi che tipo di variabilità esiste e di risalire da queste situazioni patologiche a una regola più generale. È sembrato che a un certo punto fossimo vicini a scoprire il gene del linguaggio perché in una famiglia inglese che è indicata con le lettere KE per questioni di privacy e che ha una grave difficoltà nell'articolare il linguaggio, è stata scoperta un'alterazione di un gene che si chiama FOXP2. FOXP2 è una specie di gene interruttore che attiva il funzionamento di tanti altri geni. In questa famiglia, di cui vedete qua l'albero genealogico, c'erano diversi membri maschi e femmine che portavano questa caratteristica e tutti quanti avevano un gene FOXP2 alterato. Sono persone che non riescono a verbalizzare le cose e se studiate con la risonanza magnetica i loro cervelli vedrete che mentre delle persone normali quando devono pronunciare delle parole attivano delle regioni del cervello, qui indicati in arancione molto specifiche, nelle famiglie che hanno questo problema qua si attiva un po' tutto il cervello. È come se la regione deputata a organizzare i movimenti della laringe che devono produrre il suono non riesca a funzionare per conto suo, allora manda i messaggi di SOS un po' tutto il cervello il quale si attiva in regioni che però non hanno niente a che vedere con il linguaggio. Quindi questa famiglia sembrava indicare che FOXP2 potesse essere il gene che ha portato. allo sviluppo del linguaggio nell'uomo. E ci sono degli studi, li ha fatti soprattutto il gruppo di Svantepebo che vedete qua in alto, in cui si è confrontato questo gene nel topo, nel macaco, nell'orangutan, nel gorilla, nello scimpanzè e nell'uomo. Adesso non sto a spiegarvi bene che cosa vuol dire questo albero, ma in sostanza sono state trovate centinaia di varianti di questo gene, ma erano varianti che differivano per dei pezzi del gene che non fanno niente di importante. Le differenze importanti sono quelle che in questo albero sono indicate in grigio. Ce n'è una nella linea evolutiva che porta al topo, una nella linea che porta all'orangutan, ma nel breve periodo in cui noi siamo stati separati dagli scimpanzè, sei milioni e mezzo di anni, come dicevamo, a noi sono capitate due cose che hanno modificato profondamente il gene. E quindi l'idea era che questo gene, nel momento in cui è cambiato in questa maniera, è quello che ci ha dato la facoltà del linguaggio. Perché dicevo che non è così? Ma perché abbiamo visto che in realtà il linguaggio è ben di più della capacità di emettere certi suoni in un certo ordine. Per poter parlare ci vuole anche un cervello che sia in grado di pensare e questo cervello deve essere connesso in qualche modo con le regioni che emettono il suono con i polmoni e così via. Quindi dopo un periodo di iniziale entusiasmo, nel quale si diceva bene, 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 abbiamo trovato il gene del linguaggio, oggi abbiamo capito che FOXP2 è importante, ma non è certo da quando abbiamo FOXP2 e che sappiamo parlare, anche perché FOXP2, per esempio, ce l'aveva anche l'uomo di Neandertal. E allora gli studi, sto terminando, mancano un paio di diapositive, gli studi si sono concentrati sul confronto tra come facciamo funzionare certi geni noi e come li fanno funzionare gli scimpanzè. Questi sono studi molto difficili perché vanno fatti su dei pezzi di fegato, di cuore e di cervello che quindi vanno prelevati immediatamente dopo la morte. Basta prelevarli tre quarti d'ora dopo la morte che non si riesce più a vedere come funzionavano i geni. E vanno raccolti dei campioni sia umani che di scimpanzè per fare dei confronti. Il gruppo di Svantepebo è andato a confrontare cervello, fegato e sangue in tre scimpanzè e in tre umani. E la cosa importante qui è la lunghezza del braccio che separa le due specie. Nel fegato vedete questo braccio è lungo 1,7, nel cervello 3,8. Sembrerebbe che le differenze fra noi e gli scimpanzè sono molto più marcate se andiamo a vedere come funzionano i geni nel cervello e meno nel fegato. Basta preleva uno scienziato serio e allora ha provato a fare un confronto con due specie di topo che sono separate più o meno dallo stesso tempo da cui noi siamo separati dagli scimpanzè. Ha detto magari questa è una cosa che si trova in tutti i cervelli. Invece no. Nel topo le distanze a livello di cervello, di fegato e di cuore sono le stesse. Quindi questo studio del 2002 è arrivato.